I migranti entro 60 giorni, in pochi hanno voglia di parlare. Io non so dove andare, io nascio da questo tipo qua. Sono nati qui tutti i bambini? Sì. C'è chi non ha alternative, chi invece è pronto a lasciare riace, anche perché i buoni spese, contestati dal Viminale, sono carta straccia, non vengono più accettati dai negozianti. No, come facciamo? Ci spiace tantissimo. I pocket money irregolari, le presunte carenze autorizzative e il sistema dell'accoglienza diffusa che rischia di scomparire, il modello riace che il sindaco difende con le unghie anche dai domiciliari. Riace non è un progetto SPRAR normale perché nel corso degli anni si sono create delle dinamiche così di apertura che hanno portato alla costruzione veramente di una piccola comunità globale. E mentre su Twitter il ministro Salvini ricorda che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace era stata avviata dal suo predecessore al Viminale Minniti, la direttrice del servizio centrale dello SPRAR, Daniela Di Capua, dice che nessuna deportazione, il progetto di integrazione proseguirà altrove. Lei pensa, sindaco, di aver sbagliato qualcosa? Come tutte le cose della vita, i percorsi, sicuramente tantissime cose, ma io rifare tutto quello che ho fatto. Grazie. Grazie. Grazie.